Non prepariamo la festa insieme? È naturale, ma in posti diversi! Lustro rimane qui con te, ma sarai tu responsabile della casa. Non mi hanno mai affidato un incarico così importante. E se qualcosa va storto? Sono certa che saprai rimediare. Sofia, mi devi credere, è molto bello crescere. Diventi responsabile, in gamba ed affidabile. Prima eri piccola, ma ora sei prontissima. Magari ancora non lo sai, ma tu te la caverai. Non ne dubitare mai, qualche imprevisto ci sarà. Cogli l'opportunità per mostrare che anche tu hai grandi potenzialità. Sei proprio tu che scegli se si può contare su di te. È meglio che ci pensi un po', prima di dire che non si può. Sei pronta, lo so. Va bene, sarò la responsabile della casa. Questo sì che è parlare, so che ti prenderai cura di ogni dettaglio. Lo spero tanto! Io lo so, per certo! Non è difficile, vedrai. Molto presto imparerai. Adesso è tutto in mano tua. E i requisiti tu li hai. Ogni problema vola via. Non devi arrenderti, Sofia. Non sai ancora, nemmeno tu. Che stai crescendo sempre più. Non preoccuparti, nemmeno un po'. Perché ce la farai. Lo so. Sei pronta, lo so. Suona pure il mio carillon mentre suono via, mia cara. Tutti i cilindri che vuoi. No. Nonắc. Anche. Turnija. Stai. Grazie a tutti.